Ancora una volta la mia squadra e io avevamo dato il fumo all'ispettore Carmelita Fox. Mi sorprese vedere come la prese bene. Finalmente il file segreto della polizia che stavo cercando da tanti anni. Con quello avrei potuto vendicare la mia famiglia e riprendere il nostro tesoro più prezioso. Tutto ebbe inizio quando ero solamente un cucciolo. Sapete, io discendo da una lunga stirpe di maestri ladri che affidarono i loro segreti di infiltrazione e di furto a un antico libro. Il Tivius Raconus. Chiunque leggesse il libro diventava un grande ladro. Fu per questo che ci specializzammo nel rubare i criminali. Perché non c'era onore, sfida o divertimento a rubare alle persone normali. Svaliggio un maestro criminale e saprei di essere un maestro ladro. Non chiedo di meglio. Allora mi metto subito all'opera, non mi ci vuoi. Vediamo di farla finita il più presto possibile. Ascolti Lord Sorbet, non ha nulla di cui preoccuparsi. Quando sarò nominato comandante per il lavoro svolto, sarà lei a servire me. Va bene, proviamo di nuovo. In silenzio la prendo e in silenzio taglio la corda. Porterò a termine la mia missione. Andrà tutto liscio come l'olio. Già, è perché sono proprio un rifortunato io. Oh no, è il mio cuore. Sembra un tamburo. Silenzio. Si è fermato. Qui ci vuole un massaggio cardiaco d'urgenza. Libera, uno, due. L'ho scampata bella. Rilassati, niente panico. Ce la farò. Perché io sono un valoroso guerriero in grado di cavarsela in ogni situazione. Grazie. Grazie a tutti.